Uomini e donne puntata oggi anticipazioni, sul trono arriva Ida Platano Ida Platano nuova tronista del dating show, le anticipazioni sulla puntata di oggi Come di consuetudine alle 14,45 in punto andrà in onda su canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne E in base alle anticipazioni sarà davvero scoppiettante. Cosa succederà? Maria De Filippi annuncerà che la nuova tronista al fianco di Brando e Cristiana sarà niente popo di meno che Ida Platano, che da poco è tornata ad essere single dopo la fine a sorpresa della sua storia con Alessandro Vicinanza Per lei scenderanno ben quattro ragazzi per l'appuntamento al buio, ma alla fine deciderà solo uno di loro di continuare a conoscerla Il motivo? Non hanno nascosto di avere più di qualche perplessità a conoscere una donna già madre Armando incarnato tonerà in studio dopo mesi La puntata di oggi non sarà contrassegnata solo dal ritorno di Ida Platano nei panni di nuova tronista Difatti ci sarà anche il ritorno a sorpresa in studio di Armando incarnato dopo diversi mesi di assenza Il motivo della sua assenza non è dato saperlo In questa occasione Maria De Filippi chiederà immediatamente al cavaliere se ha visto che nel parterre femminile c'è Cristina, con la quale ha avuto una frequentazione mesi fa Quest'ultimo ha confermato di averla vista immediatamente, ma di non essere interessato a riprendere il discorso con lei Non corteggerà neppure Ida, nonostante in passato siano usciti insieme diventando poi ottimi amici In studio tra l'altro Armando si ritroverà di fronte pure una sua rivale storica, Barbara De Santi In base alle anticipazioni pare che il cavaliere non abbia detto niente su quest'ultima, la quale avrebbe fatto la stessa cosa Discuteranno nelle prossime puntate? Uomini e donne, la coppia ha deciso di lasciarsi a sorpresa Si segnala inoltre che nella puntata di oggi del dating show dovrebbe esserci al centro dello studio un accesissimo confronto tra Alessio e Claudia Purtroppo i due, dopo aver litigato nuovamente in maniera molto accesa, decideranno di porre irrimediabilmente fine alla loro storia Difatti la continua gelosia di lei ha portato allo stremo il cavaliere del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, il quale ha deciso di dire addio per sempre alla dama I due torneranno sui loro passi nelle prossime puntate del programma quotidiano in onda sull'ammiraglia Mediaset? Oppure entrambi inizieremo a conoscere rispettivamente altre persone? Insomma pare davvero che la puntata di oggi di Ued abbia tutti gli elementi per tenere incollati gli spettatori a casa al teleschermo